La situazione è particolare perché i dormitori sono pieni, i posti che abbiamo disponibili sono tutti occupati, abbiamo una lista d'attesa. Ancora troppi i fragili in strada, di notte, al freddo. Molti di loro cercano e trovano rifugio nei dormitori della Caritas diocesana in città, ma i posti letto sono esauriti da tempo e tante persone in difficoltà sono costrette a dormire alla diaccio. La casa di prima accoglienza Scalabrini di via Giordani ha infatti a disposizione dieci posti letto al momento, tutti occupati. Poi c'è il rifugio Il Nido in via Grondana, ma anche in questo caso gli otto posti letto a disposizione sono al completo. Infine, anche la casa accoglienza e emergenza freddo nella parrocchia della Sacra Famiglia non può più ospitare nessuno, dato che i suoi otto posti letto, esattamente come gli altri dormitori, sono esauriti. Un'emergenza, quella dei senza tetto, che nel 2023, appena concluso, ha registrato numeri mai visti prima a Piacenza, con sempre più giovani in difficoltà, che dopo essere finiti per strada, si rivolgono alla Caritas. Il dato significativo relativamente ai dormitori è che l'età media si sta abbassando. Sono sempre più persone più giovani che si trovano nella condizione di dover chiedere un posto per dormire, in dormitorio, rispetto al passato. Se si ha conoscenza di persone in difficoltà o se ci si trova in un momento difficile a nostra volta, è utile rivolgersi al centralino del centro di ascolto della Caritas Diocesana, attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. Il numero da comporre è 0523 33 27 50.